sapete ragazzuoli essendo io un canale che tratta per lo più i titoli souls dovrei parlarvene bene invogliarvi a giocarli portando così acqua al mio mulino ma essendo io da sempre una persona molto critica sia con me stesso nella mia vita ma anche in quello che gioco voglio parlarvi di dark souls sia nel suo lato positivo come abbiamo fatto nello scorso video sia nel suo lato negativo io sono nevermind ed oggi voglio parlarvi di 5 cose che odio di dark souls ovviamente tutto quello che seguirà sarà personale il vostro parere potrebbe essere tranquillamente diverso dal mio ed è anche quello il bello perché ne possiamo discutere qui sotto nei commenti o nel server discord che ho creato di cui trovate il link per partecipare in descrizione scrivendo questo video mi sono reso conto che odio come parola è molto molto pesante e proprio per questo ho trovato non poca difficoltà nello stilare questi 5 punti questi 5 motivi per cui odiare effettivamente dark souls ma alla fine pensandoci bene ricordando anche le mie varie esperienze in game sono riuscito ad estrapolare 5 motivazioni per cui questo gioco delle volte è dannatamente irritante 5 punti che lo rendono davvero fastidioso ma quel tipo di fastidio come quando al cinema di fronte ad un bel film che sta per iniziare che stavate aspettando da anni e anni siete pronti a vederlo comodi sulla vostra poltrona belli spavaranzati con i pop corn di lato con tutto l'hype accumulato nel tempo e tac vi si piazza uno spilungone davanti il film sarà pure bello ed appassionante ma la sola presenza dello spilungone vi nervosirà per tutta la sua durata rovinando in parte la vostra esperienza ecco questo è l'effetto che personalmente mi fanno questi 5 punti in dark souls spero di aver reso l'idea la prima cosa che odio in questo gioco è la sua legnosità davvero ce ne sarebbe tanto di cui parlare mi basterebbe discutere della telecamera non proprio adatta a tutti i combattimenti o ad alcuni spazi ristretti del gioco mi basterebbe solo questo per farvi capire cosa intendo per legnosità ma voglio andare un po più nel dettaglio così da rendere più chiaro l'argomento sicuramente dark souls non è un videogioco moderno sotto molti lati anzi alcune sue caratteristiche di gameplay lo rendono a volte anche fin troppo old school facendolo risultare molto simile a quei vecchi titoli che alcuni di noi un po più anzi anotti tra virgolette si ricordano ed hanno giocato anni e anni fa e questa cosa finché non intacca la fluidità del gameplay può anche starci perché è una scelta di stile creare per esempio un gioco davvero punitivo ed impegnativo rispetto ad un altro ma quando questa legnosità classica caratteristica di molti giochi ormai datati entra a far parte dei movimenti del gameplay del personaggio di un titolo del 2011 come quello di dark souls l'esperienza in game un pochino ne risente per esempio quasi tutti gli oggetti da lancio sono davvero troppo lenti da utilizzare e delle volte sembrano pesantissimi e vanno calibrati bene per essere efficaci ma non sempre c'è possibilità per fare questo i coltelli da lancio che dovrebbero essere la dimostrazione della fluidità dell'essere scaltri quasi dei ninja se utilizzati sono addirittura un malus per il giocatore che rimane bloccato nell'animazione e diventa facile preda per attacchi più veloci e malandrini stessa cosa succede per alcuni miracoli ed incantesimi che per quanto possano essere utili e potenti sono davvero troppo lenti da castare e paralizzano per interi secondi il player nella loro animazione per non parlare poi degli archi e delle balestre della loro mira della traiettoria sballata delle frecce rispetto al mirino e molti di voi sanno quanto ho penato nella run solo con l'arco per finire questo titolo proprio perché quest'ultimo considera l'arceria con una tecnica diciamo di contorno da abbinare alle armi classiche come spade asce e anche gli scudi quindi l'arco dovrebbe essere utilizzato secondo il gioco solo in determinate situazioni occasionali peccato che sia davvero orribile da utilizzare in qualsiasi occasione anche quella meno occasionale una legnosità che alla fine spinge i giocatori alla scelta più facile predileggendo una determinata build rispetto ad un'altra o d'uno stile di gioco rispetto ad uno più lento e macchinoso ma magari più vario e questo secondo me è davvero un peccato perché per quanta libertà e varietà il gioco ci offra le opzioni davvero efficaci si rivelano essere sempre le più conosciute e le più mainstream ed il peggio ve l'ho lasciato per la fine un'altra cosa che davvero odio in dark souls è la sua versione pc ovvero il porting da console ormai considerate all gen a personal computer bandai namco spinta dal grande seguito che questo titolo aveva generato per xbox 360 e ps3 decise finalmente di rilasciare nell'agosto del 2012 la versione microsoft e diciamo che fu anche imboiata parecchio dopo aver visto che c'erano circa 70.000 persone che avevano firmato una petizione web per questa release finalmente anche chi non possedeva console poteva assaporare l'oscura anima di dark souls peccato che la versione pc fu un disastro totale il framerate era bloccato a 30 la risoluzione bassissima e le prestazioni ridicole anche su pc di ultima fascia insomma era effettivamente la versione console copia incollata su pc con i suoi vari cali di framerate per esempio quelli più famosi come nella città infame gli sviluppatori che avevano lavorato a questo progetto non avevano capito bene il significato di porting poverini o semplicemente se ne erano fregati altamente quindi il gioco non era ottimizzato per nulla e non sfruttava l'hardware del pc su cui era installato facendo un paragone come se qualcuno prendesse il motore di un pandino e lo montasse alla bene e meglio come capita su una ferrari senza adattarlo alle prestazioni dell'auto il risultato sarebbe uno schifo incredibile ed è questa la sensazione che genera dark souls per pc ma non volendo fare i polemici e pegnoli possiamo dire che chi all'epoca era abituato alle console e a quegli standard poteva anche sorvolare su questi problemi anche se aveva un pc da 3000 euro e gli rodeva l'anima al solo pensiero di giocare dark souls in quella maniera così barbara potevamo sorvolare su tutto anche solo per il piacere di giocarlo su pc davvero su tutto tranne per il fatto che qualche giorno dopo l'uscita del gioco il 24 agosto 2012 fu rilasciata la versione sperimentale del ds fix per chi non lo sapesse il ds fix è una mod creata da un programmatore un certo durante che probabilmente prima o poi faranno santo che sistema tutti quegli odiosi problemi che la versione pc di dark souls aveva quindi un tizio che non c'entrava nulla né con la bandai namco né con la front software creò in pochi giorni quello che poi sarebbe stato lo strumento necessario per giocare dark souls su pc in modo decente in pochi giorni un tizio da solo contro il lavoro fatto dalla bandai namco compagnia di sviluppo videogame nata nel 1955 che solo nel 2015 ha fatturato una cosa come 565 miliardi di yen circa 4 miliardi e mezzo di euro un tizio da solo ha fatto questo in pochi giorni ma che c***o succede ok ok devo devo calmarmi altrimenti non riesco a finire il video parliamo ora di qualcosa che è da sempre sulla bocca di tutti il fatto che in dark souls molte cose siano nascoste o non dette come abbiamo già discusso nella scorsa classifica tra virgolette la front software molto volentieri taglia via parti di alcune storie o le lascia incomplete proprio per dare al giocatore la possibilità di specularci sopra di indagare e di farsi un'idea personale di come sia o non sia andata a finire una determinata vicenda tutto questo se fatto in maniera non aggressiva è anche piacevole come avevo detto nello scorso video invoia davvero tanto il giocatore ad ingegnarsi poi dipende da giocatore a giocatore per venire a capo di una determinata trama o sottotrama il vero problema sorge quando vengono nascoste informazioni che ai giocatori delle volte sono davvero necessarie e che altrimenti manderebbero in fumo intere run sto parlando per esempio di informazioni utili come quelle dei covenant degli oggetti sbloccabili all'interno di questi patti che senza l'utilizzo di una ricerca web sono del tutto nascoste ai players quindi se uno non vuole fare una ricerca si andrebbe a tentativi portando gli oggetti richiesti finché non si sblocca a caso qualcosa personalmente tutto questo alone di mistero lo considero orribile davvero orribile perché in primis alcuni degli oggetti che ci vengono richiesti non sono così semplici da ottenere addirittura alcuni richiedono una connessione internet e la vittoria in pvp contro altri giocatori mentre altri sono semplicemente noiosi e lenti da farmare e seconda cosa questi patti richiedono come donazione massima 80 unità dell'oggetto richiesto e voi capirete che una persona che non si è informata su internet sugli step da seguire non ci arriva a donare 80 unità perde interesse prima inizia a pensare che probabilmente non c'è nulla da sbloccare magari arriva a 30 unità ma non va oltre tutto questo lo considero un po troppo fumoso avrei personalmente preferito magari qualche indizio in più su quello che sto facendo su quello che sto sbloccando anche perché se magari riesco a capire che 80 unità sono davvero la donazione massima rimango comunque male ci rimango davvero tanto male a sapere che la maggior parte di questi patti con 80 unità non danno assolutamente nulla c'è poca chiarezza in generale anche riguardo le questline degli npc che andremo ad incontrare all'interno del gioco e anche se ci si mette realmente tanto impegno per seguirle delle volte sono talmente criptiche che basta davvero poco per mandarli in fumo basta triggerare qualche evento a noi sconosciuto fino a quel momento e fallire tutto accetto ben volentieri il fatto che il gioco vada scoperto man mano che la front software lascia a noi alcune decisioni che ci lasci speculare su alcune vicende irrisolte volontariamente ma questo tipo di manovra all'interno del titolo devo dire che non l'ho apprezzata né alla prima run né in quelle più recenti sicuramente almeno in questo avrei preferito un po più di chiarezza un'altra cosa che davvero non sopporto di dark souls è il suo multiplayer questo punto si collega in maniera spontanea a quello precedente perché anche in questo caso per motivi a noi sconosciuti la front software ha deciso di mantenere segrete in game le informazioni per giocare online non si sa perché quindi di nuovo dovremmo armarci di ricerca web per venirne a capo ma non volevo soffermarmi tanto su questa nota dolente su cui ancora oggi ricevo domande su come cooperare qual è il distacco di livelli che devo mantenere le percentuali eccetera eccetera volevo soffermarmi sulla pura esperienza multigiocatore quindi quando cooperiamo e quando facciamo pvp tralasciando le assurde regole per trovarsi in gioco personalmente adoro davvero tanto la possibilità data di condividere questa oscura esperienza con altri giocatori in giro per il mondo ma perché limitarla alla sola boss fight perché inserire l'assurda legge che quando il boss di zona muore io non posso trovare più giocatori online perché non posso farmare non posso semplicemente duellare in zone che ho già completato e questo lo trovo davvero assurdo perché la nostra esperienza in game si sviluppa nella maggior parte del tempo in zone fuori dalla boss fight quindi perché di imitarci con la morte del boss io davvero non riesco a capirlo come non riesco a capire il divertimento che la gente trovi nel cittare in questo gioco o nel fare duelli sempre con le stesse 4 5 build rotte ineguagliabili dalle altre lo scarso supporto che c'è stato dietro questo titolo è letteralmente ridicolo anzi forse ancora peggio è assente del tutto non c'è un sistema anti cheater non c'è protezione per l'utente non c'è nulla di nulla ed è vero sì che tutto questo ha portato al prolificarsi di mod carine ed interessanti forse anche lo stesso di sfx come queste mod verrebbe considerato un cheat se ci fosse realmente un sistema di protezione all'interno del gioco ma è anche vero che in questa maniera il pvp randomico si è ridotta ad una barzelletta ad una brutta barzelletta e la cosa è peggiorata anche dopo la chiusura di quello scempio del games for windows live che metteva un muro di carta velina fra i giocatori normali e di cheater ed in tutti questi anni l'unico supporto che c'è stato è stato quello degli utenti comuni dei stessi giocatori che amano questo titolo e che hanno inventato modi e mod per evitare i giocatori malevoli nelle loro sessioni online quindi anche in questo caso l'utenza entra in gioco e fa la sua parte quando la casa produttrice e gli sviluppatori se ne fregano altamente e parlando di utenza ragazzuoli miei ho voluto inserire come quinto ed ultimo punto proprio noi la community ma come ne aver inserito la community nelle cose che ami come fai a metterla anche qui in quelle che odi mi direste voi lo so è vero però come avevo già detto nell'ultimo video la community ha sia i suoi lati positivi che quelli negativi ed oggi come da titolo parleremo del suo lato peggiore ho giocato davvero tanti videogames in vita mia sinceramente mai troppi per i miei gusti ed ho notato che più un gioco è difficile impegnativo più il titolo punta al perfezionismo all'essere perfetti più la community è molesta posso parlarvi di monster hunter di the binding of isaac di warframe di path of exile e molte altre serie che hanno al loro interno il perfezionismo il diventare l'eccellenza superando sfide davvero tanto ostiche e la serie souls è solo un altro esempio di questa categoria di videogiochi in cui la community si diverte ad essere davvero tanto stronza ovviamente non tutta l'utenza si comporta in questa maniera ma c'è una parte che io davvero fidatevi ragazzuoli ci ho provato ma non riesco a capirli perché sembra che provino gusto nel deridere nello sbeffeggiare magari altri giocatori meno esperti mettendo in mostra la loro sapienza e le loro capacità nel sapere nel fare tutto all'interno di dark souls quindi dall'alto delle loro 3000 ore di gioco sentono quasi quasi il dovere di rispondere in maniera sarcastica ai post su facebook e di altri siti web gli utenti che sono lì a chiedere semplicemente perché non hanno giocato così tanto a fondo il titolo sono lì a domandare aiuto ed informazioni e a ogni richiesta c'è sempre il simpaticone di turno c'è sempre quello che fa intendere a tutti gli altri che la domanda è ovvia e stupida e mai e poi mai risponde cercando di aiutare io sono sicuro che in questi gruppi ci sono utenti iscritti solamente e dico solamente per rompere i coglioni al prossimo sembra che non so fiutino l'odore del giocatore inesperto e lo bracchino in ogni post deridendolo senza sosta sembra questo e volete sapere qual è la cosa più brutta è che secondo me loro traggono soddisfazione da questo dal prendere in giro altre persone meno informate di loro in giro per il web e il motivo potrebbe essere che questa è una delle poche fonti di soddisfazione in vita loro eh lo so la cosa è abbastanza triste e mi dispiace se qualcuno di voi si sentisse chiamato in causa ma sfottere altri giocatori che manco conoscete avete visto non vi fa apparire né fighi né belli né tanto meno intelligenti alla vista degli altri anzi vi fa apparire solamente come degli imbecilli lo so lo so fa parte della community tutto questo ma non è detto che non se ne debba parlare e che non piaccia questo video serve proprio a questo scopo parlare delle cose fastidiose ed odiose di dark souls un po come quando si legge dopo sei anni e mezzo dall'uscita del gioco in giro per il web praise the sun ah so che almeno una volta in vita vostra lo avete detto alzando le mani un po come quelli che provano a trasformarsi in super saian o a tirare un'onda energetica o a diventare il ciocco di legno come fa naruto l'ho fatto anche io e tutti ci siamo passati tutti lo abbiamo scritto ho detto ed è paragonabile un po quasi alla pubertà mette in imbarazzo ma prima o poi passa e si matura si spera ora io voglio davvero fare complimenti a deprold a paride al suo staff per aver ideato quella categoria di video che l'hanno poi fatti conoscere l'hanno fatto conoscere per il web video ben curati e divertenti che hanno dato vita successivamente ad una serie di meme e parodie compresa anche quella del praise the sun che era già conosciuta ma che in italia diciamo così esplosa un pochino di più dopo questi video e non sono sarcastico sono video che apprezzo davvero tanto ma vorrei sapere perché dopo tutti questi anni quel meme continua imperterrito ad infettare ogni discussione legata a dark souls perché perché deve essere così tanto usato per così tanto tempo i meme hanno il loro breve ciclo vitale qua sembro un po piero angela impazzano per il web ma dopo qualche settimana spariscono questo questo no questo sembra avere vita eterna e la cosa orribile che molti mi odieranno per questo lo so ma qualcuno deve pur dirvelo e che lo abbiamo usato così tante volte che ha smesso di essere anche lontanamente divertente ed anche il ricordo di quanto è stato divertente in passato è diventato odioso al solo pensiero vedo già da qui i forconi e le fiaccole sotto casa mia e mi aspetto grandi commenti di odio qui in basso e sì anche qualche praise the sun lo so ma tutto questo andava detto sfottere gli altri non porterà assolutamente a nulla come ripetere senza pensarci la stessa cantilena infinite volte non serve a niente anzi sono cose che scoraggiano il giocatore che vorrebbe iniziare a giocare a questa serie perché non so se lo sapete ma la community dei souls si è creata una reputazione pessima ma soprattutto perché quando qualcuno si avvicina un minimo all'utenza di questo titolo di questo splendido gioco trova in parte gente che lo deride e persone che ripetono la stessa frase senza motivo e con questo video credo di aver attirato verso di me abbastanza odio per oggi ma a parte gli scherzi spero che queste cinque motivazioni per cui odio dark souls anche se vi ripeto è davvero brutto come termine vi siano servite per capire in cosa effettivamente dovrebbe migliorare il titolo e dovrebbe migliorare anche l'utenza anche se quest'ultima cosa è un po' più difficile da sistemare rispetto ad un semplice fix per un videogame vi ricordo che possiamo discutere di questi argomenti nel mio canale discord che trovate qui sotto in descrizione e possiamo parlarne anche qui nei commenti spero che il video vi abbia intrattenuto ed interessato fatemi sapere la vostra sono davvero curioso io ero nevermind alla prossima ciao 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 ciao